ciao a tutti sono Roby Webworld benvenuti nel mio canale oggi vorrei fare un video che mostra un sito molto interessante cioè quello per vedere a chi assomigli di più ho visto che c'è molta ricerca su google con queste parole chiave quindi molte persone cercano vogliono sapere a quale personaggio famoso assomigliano c'era una volta un sito che faceva queste cose adesso è un po sparito ne ho ritrovato un altro e oggi proviamo con questo insieme a voi vedremo cosa ci fa vedere il sito si chiama pigtrib.com questo è il suo indirizzo arrivate qua alla home page e poi grazie 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 grazie